Vabbè, ma ormai è fuori controllo Berlusconi, cioè io penso che sta cercando di sabotare il governo della Meloni in tutti i modi possibili. In questo caso la Meloni sta facendo il suo lavoro, Berlusconi sta cercando di far saltare il lavoro della Meloni, sul quale però ha preso i voti degli italiani, quindi sta prendendo in giro la Meloni ma sta prendendo in giro anche gli italiani. Quindi c'è una strategia? Beh, se non c'è una strategia c'è un problema più profondo, umano, perché è chiaro che se tu dai i ministri, come fosse il Presidente della Repubblica, ce ne metti uno non concordato, poi dici che vuoi bene a Putin, vi scambiate i messaggini dolci, cioè siamo davanti o a una persona fuori controllo o a una persona che ha un grande controllo e vuole distruggere la possibilità di Meloni di governare. Secondo lei Berlusconi ha un piano B se fa saltare questo governo? Può una persona che dice le cose che dice lui avere un piano B? Io non lo so, può essere qualunque, vota Putin per Presidente del Consiglio, qual'è il piano? Allendami scusi.